hai in mente di fare qualche cosa hai una mezza idea agisci parti con quella mezza idea certo sarebbe meglio avere tutta l'idea ma se hai soltanto mezza idea comincia da lì e strada facendo ti fa venire l'altra mezza idea magari chiedi a un consulente una mano per completare quella mezza idea ma è meglio partire con una mezza idea tua piuttosto che restare lì ad aspettare che qualcuno ti dia una spinta qualcuno ti faccia fare delle cose che possano piacerti potrebbe non succedere potrebbe accadere invece il contrario ossia che qualcuno ti porta a fare cose che non ti piace fare meglio se ti organizzi meglio se utilizzi il tuo tempo per elencare le tue qualità e domandarti come puoi applicare quelle qualità per ottenere delle soddisfazioni nella vita ma non stare troppo tempo lì a leggere questo elenco hai un'intuizione hai voglia di fare il salto di qualità nella tua vita agisci incomincia adesso e strada facendoti perfezioni grazie a tutti grazie a tutti